Ancora un po' pomeriggio a tutti quanti voi, Franco Iannone al microfono per raccontarvi anche questo quarto ed ultimo passaggio. Ancora un po' pomeriggio a tutti quanti voi, Franco Iannone al microfono, un po' pomeriggio a tutti quanti voi, Franco Iannone al microfono, un po' pomeriggio a tutti quanti voi, Franco Iannone al microfono, un po' pomeriggio a chiudere questa loro quarta e l'ultima fatica di giornata. Iannone al microfono segna 1.45.64, è andato davvero forte nel giro precedente, tempo pressoché simile per Alex Salvini, come sapete già Johnny Hubert non è più della partita, almeno in questa prima giornata lo rimetteremo in gara domani nella giornata conclusiva. Noi meccaniche per lui al termine cross test nel giro precedente, vedremo appunto che possa recuperare, speriamo che possa recuperare per domani e presentarsi dunque al via. Ero Remes, nel frattempo l'ultima fatica di giornata qui all'estrema, in questo modo, non mi affrontare per lui? Ma non mi affrontare per lui, tanto mi affrontare per lui? Noi, grazie a tutti. Ero attività, grazie a tutti. Ero in questo modo, anche quella iscrizione deg hogia. Noi, grazie a tutti i nostri spagiati, Ero in questo modo, via lasciando ancora un lontaggio? Grazie.